un'idea diversa dell'otto marzo 2022 festa della donna quante belle piante con fiori tutti gialli sono belli profumati sono pronti da regalare peccato rovinare i rami delle mimose nei giardini nei viali e per le strade le donne sono come le piante vanno accarezzate curate amate rispettate in campagna sono stato un campo tutto giallo ho trovato con stupore l'ho guardato con lo scatto immortalato tanti fiori ho tagliato un bel fascio preparato sono belli sono gialli sono fiori di campagna sono cime di rata un omaggio voglio fare a tutte le donne sia vicine che lontane che sarebbe il mondo senza le donne viva le donne sono belle sono brutte sono bionde sono brune sono brave sono befane oggi è festa della donna auguri 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 da pietro fiori pregiati non ho regalato di certo però con modo particolare vi ho pensato tra gli olivi sono andato un ramo tagliato e unità le mimose ad alta voce ho gridato viva la pace viva la pace grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti